Il Paradiso delle Signore 7, Marco e Stefania potrebbero essere in crisi. La settima stagione del Paradiso delle Signore va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming Rai Play. Gli spoiler dello sceneggiato creato da Gianna Andrea Pecorelli raccontano che nell'atelier milanese tutti si domanderanno come mai Marco di Sant'Erasmo sia tornato in città senza Stefania Colombo, Gras Ambrose. Gemma Zanatta, Gaia Bavaro, intanto, chiederà a Roberto Landi, Filippo Scarafia, di scoprire cosa angoscia il nipote di Adelaide, Vanessa Gravina. Oltre agli attriti col fratello Tancredi, Flavio Parenti, così il pubblicitario verrà a conoscenza che Marco è in ansia anche per l'intervista che dovrà fare a Federico Fellini. Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, suggerirà con successo al giovane di Sant'Erasmo di fare un passo avanti verso il consanguineo. Nel frattempo Marco e Gemma rimarranno a dialogare sino a notte inoltrata. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo. È probabile che il muso lungo del rampollo di casa di Sant'Erasmo sia dovuto anche a una crisi sentimentale che sta attraversando con la figlia di Ezio, Massimo Poggio. Le puntate iniziali del Paradiso delle Signore 7 avevano portato nuovamente alla ribalta e contrasti tra Marco e Tancredi soltanto che, a differenza dello scorso capitolo della S.O.P., la presenza dell'avvocato piemontese in città aveva resa impossibile. O quasi, la permanenza del giornalista a Milano. Il marito di Matilde Frigerio, Chiara Baschetti, aveva provato a fare terra bruciata. Facendo in modo che nessuna redazione assumesse Marco come giornalista. Mossa meschina che per qualche episodi. Aveva fatto prendere al ragazzo la decisione di abbandonare la carriera professionale. Fortunatamente una ghiotta proposta lavorativa era giunta al cospetto del giovane di Sant'Erasmo da Washington. Con quest'ultimo e la fidanzata Stefania che avevano deciso di trasferirsi oltreoceano. Sul ritorno di Marco a Milano senza Stefania potrebbero avanzarsi diverse ipotesi ma, nonostante non vi siano spoiler ufficiali in merito, la più plausibile potrebbe essere che ci sia Maretta tra i due. L'eventuale crisi di coppia verrebbe confermata anche dalla sintonia ritrovata tra Marco e Gemma che trascorreranno diverse ore a dialogare insieme. Scambio di vedute che difficilmente sarebbe avvenuto in presenza di Stefania, considerando i colpi bassi che quest'ultima subito dalla sorellastra. Scambio 45 45 46 35 46 47 48 48 49 49 49 50 Poate nu ma brac la costum, poate nu spun minciun Sunt liber sa fiu stapan, pe ce fac si ce spun Sti, nimic nu mai e la fel Pupilaria s-a maturizat sever S-a luvit pana acum de fel, de fel De oameni, de pareri, anti pur de caracter Si vad cum...